speriamo che almeno tu tu porti bene signori, signori benvenuti al prepartita di Sassuolo-Fiorentina oh mio dio, oh mio dio innanzitutto signori, prima di cominciare vi ringrazio ancora sempre per tutti gli iscritti appunto che stanno arrivando nuovi vi ringrazio per tutti i messaggi che voi mi avete inviato sto benissimo, per chi insomma me l'ha chiesto sto bene eh, non c'ho niente c'ho un po' di mal di testa, leggero mal di gula sentite che voce di merda, ma tanto è la mia di normale per il resto appunto tutto bene, per il resto vi invito appunto anche a quelli nuovi che vedranno in questo video a iscrivervi al canale vi lascio anche il mio instagram qui qui sotto e ragazzi, nella partita scorsa, nello scorso prepartita di appunto della Coppa Italia Fiorentina-Atalanta no, perché Coppa Italia? che cazzo sto a dire? ma sobriamo ma quante volte abbiamo giocato contro l'Atalanta non me ne ricordo nemmeno in campionato, scusate, è finita per 1-0 il signore, lo devo leggere perché sembra un codice fiscale Tommy2214 Brawl Stars hai indovinato? il risultato esatto è primo marcatore grandissimo Tommy bellissimo il nome sempre ecco, un codice fiscale e nulla ragazzi allora vi invito ovviamente a farmi risapere il sotto appunto qui nei commenti il vostro pronostico per la partita contro il Sassuolo quindi risultato esatto è primo marcatore e vi ci dirò nella prossima nel prossimo video che sarà l'1 marzo ovvero un giorno prima della partita di Coppa Italia quindi martedì ragazzi versa appunto questa partita partita difficilissima osticissima veramente una cosa devastante non so neanche se si dica osticissima però insomma avete capito all'andata si finì 2-2 una partita che la Fiorentina probabilmente avrebbe meritato per un numero di occasioni il Sassuolo fu molto più bravo e molto più concreto sotto porta soprattutto nel primo tempo mi ricordo con i gol di Scamacca che fece un gol clamoroso che anche lui bisognerà stare attenti lì e poi il secondo di Frattesi che ci fu una bella azione corale da parte del Sassuolo che poi appunto Frattesi concluse in gol la Fiorentina quella partita appunto come ho appena detto finì in pareggio ma di sicuro avrebbe meritato qualche cosa di più di un 2-2 che fu il risultato finale a livello di occasione perché mi ricordo che in quella partita con Sigli fece il panico soprattutto a fine primo tempo inizio secondo tempo fece due o tre parate clamorosamente devastanti non ve lo sto neanche a dire nella conferenza stampa Dionisi ha clamorosamente detto che come è giusto che sia daranno tutto anche i giocatori in campo daranno praticamente l'anima visto che alla fine loro non si giocano niente ma comunque vogliano una salvezza sicura anche se il Sassuolo comunque quest'anno già ampiamente salvo ma magari per tentare la fortuna visto che ancora mancano 12 partite daranno appunto il tutto per tutto anche perché poi il Sassuolo ha una squadra ragazzi che nonostante la classifica è veramente ottima il trio d'attacco sarebbe clamorosamente tutto da nazionale Raspadori Scamacca Berardi se me li potessi prendere domani me li prenderei domani tranquillamente e noi invece ragazzi per quanto riguarda la nostra compagine molto probabilmente io sono convinto che in vista appunto della partita del 2 marzo contro la Juve dell'andata di Coppa Italia italiano opterà per un po' di turnover bisogna stare attenti quando si parla di turnover bisogna stare molto attenti io mi fido del mio allenatore fino ad ora non ha mai fatto grosse cappelle appunto riguardo il turnover perché il turnover va fatto in modo intelligente va fatto in modo molto intelligente l'abbiamo visto fare quest'anno in modo intelligente non mi ricordo in che partita lasciando diciamo i cardini del di ogni reparto in campo ah già è vero contro il Benevento in Coppa Italia dove giò addirittura Cocorino mi ricordo lì cosa successe ci fu una partita completa praticamente un full turnover anche in porta dove però un pezzo della difesa un pezzo del centro camp e un pezzo dell'attacco quelli essenziali rimanevano a dare diciamo le linee guida al resto della squadra ed è così che bisognerà comunque giocare così perché un full turnover te lo può permettere appunto contro il Cosenza all'inizio dell'anno dove si vinse 4-0 perché effettivamente il dislivello della squadra è talmente ampio che ti può permettere di fare anche il full turnover qui affrontiamo una squadra veramente ostica che nell'ultima uscita contro l'Inter a Milano lo sanno bene appunto gli interisti gli hanno fatto un bucio di culo come un secchio e noi bisognerà stare attenti perché qui anche riuscire a strappare un punto sarebbe ottimo personalmente non mi aspetto personalmente ve lo dico cioè a livello proprio a sentimento non mi aspetto assolutamente di portare a casa i tre punti in questa partita sarei contento anche per un pareggio perché queste sono quelle partite che difficilmente tu vinci soprattutto in una squadra in forma in questa maniera come il Sassuolo bisognerà appunto vedere l'italiano chi schiererà in campo molto probabilmente farà turnover in difesa quindi di sicuro magari non giocherà Martínez Quarta ma giocherà Igor o scusate non giocherà Milenkovic ma giocherà Martínez Quarta magari giocherà anche Igor o forse potremmo rivedere di nuovo Nastasic in campo bisognerà probabilmente Biraghi giocherà ma dall'altra parte secondo me non giocherà Odrio Zola ma comunque faremo giocare venuti il centrocampo secondo me verrà appunto un po' rimaneggiato perché comunque magari potrebbe potrebbe a mio avviso non giocare Torreira ma vedere magari in campo di nuovo dal primo minuto Amrabat potrebbe essere un'opzione anche quella in generale poi il centrocampo noi abbiamo effettivamente sei titolari in tutto il centrocampo questa è una cosa che mi è sempre piaciuta del gioco d'italiano che abbiamo sempre fatto diciamo a rotazione abbiamo sempre visto tutti i giocatori essere ottimi per il campo chi più chi meno ovviamente magari i titolari della squadra in attacco bisognerà vedere chi giocherà probabilmente potrebbe magari scendere anche Cabral dal primo minuto visto che magari Piontec in questo momento è il titolare e potrebbe giocare titolare appunto contro la Juve poi vedremo cosa farà le scelte che prenderà l'allenatore magari potrebbe giocare Saponara dal primo minuto però è un pezzettino e non lo vediamo potrebbe rigiocare sotto il dal primo minuto che anche lì sarebbe un'ottima mossa visto che la difesa del Sassuolo non è così prestante sotto il punto di vista della velocità ecco diciamo quindi magari prendere la difesa in velocità potrebbe essere ottimo come potremmo vedere magari Cone a me piacerebbe tanto vedere Cone dal primo minuto quindi niente ragazzi per il resto fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti scusate per la luce scusate per tutto ma appunto vi ripeto lo sapete tanto da chi ha visto il video di ieri chi non l'ha visto appunto se lo vado a rivedere sul perché molto probabilmente in questi giorni non usciranno live reaction non usciranno troppi video in più di che magari portavo di solito perché perché siamo qui perché siamo qua niente ragazzi appunto vi invito di nuovo a farmi il pronostico qui sotto nei commenti ovviamente il risultato esatto è il primo marcatore chi lo azzeccherà appunto lo sciterò nel prossimo video niente ragazzi sempre Forza Viola aspettiamo domani sera per vedere anche quale saranno ovviamente anche domani mattina penso le scelte dell'allenatore della formazione e niente sempre Forza Viola ragazzi quest'anno ci meritiamo qualche cosa veramente che sia Coppa Italia quella sinceramente non la sto neanche a guardare perché sarà veramente un'impresa titanica impossibile penso però anche in campionato ci dobbiamo meritare qualcosa quest'anno ce lo meritiamo dopo gli anni di merda e se fatto ce lo meritiamo ciao ragazzi sempre Forza Viola Forza Viola Forza Viola